Questa meditazione è guidata da Edoardo Conte, fondatore del portale della fratellanza fraternity.it. Serve a penetrare il valore della carica. Chiudiamo gli occhi e portiamoci nel cuore. Nella sua profondità ascoltiamo ciò che ci suggerisce riguardo a questo valore. Il valore della carica è il risultato del valore dell'ideale e di quello dell'ordine fusi insieme, in modo da generare la potenza energetica necessaria a precipitare le idee nella sostanza affinché prendano forma. La fonte della carica è la coscienza stessa, a partire dalla coscienza universale, il cui potere è insito nella sua funzione mediatrice tra spirito e materia. Perciò la carica irrompe dall'attività stessa dell'essere cosciente quando si pone al ritmo della vita. Pensiero seme. La carica serve a rigenerare l'energia per disporre del potenziale creativo. Osserviamo il simbolo del valore della carica con questo vortice dell'ideale che dà vita al simbolo dell'ordine, del tempio, quindi del ritmo. Ed ecco che allora la carica acquista il significato di ridonarci, rioffrirci, risvegliarci il giusto ritmo della vita. e dunque ha in sé la forza di vivere. E quando sembra che ci manchi quella forza dobbiamo ricorrere al modello, al modello che ci ispira, ci ispira e ci aspira a sé. E noi sentiamo quella forza attrattiva dell'ideale che ci ridà carica, forza, potenza per tendere a quel modello e portarlo nella nostra vita. Ognuno ha un proprio modello a cui tende. E la personalità si educa dandole in pasto quel modello che è il modello più agoniato, più alto che possiamo mettere su quel trono, che è il trono della nostra meta. e tendere a quel trono, che è un centro, la meta dell'ideale, ci ricarica quotidianamente. Questa è l'importanza dell'ideale. Ma la carica deve essere sempre commisurata alla distanza che è tra noi e il modello. tra noi e la meta. Non deve mai essere superiore a quella distanza, è per quello che dobbiamo poterla misurare attraverso la prudenza. Altrimenti rischiamo che quella carica, se va oltre, ci porti al fanatismo. E il fanatismo brucia in un attimo quella carica, e la brucia attraverso la violenza. mentre la corretta aspirazione mantiene quell'energia nel tempo. ecco il segreto di mantenere quella carica. La costante aspirazione al più alto ideale, che è la nostra meta in questa incarnazione. Questo è il segreto della carica che ci dà forza e ci dà la spinta per mantenere quella tensione costante nel tempo e rigenerarci continuamente nel nostro servizio quotidiano. Questo è il valore della carica. Manteniamolo e durante la settimana troviamo il nostro suono, l'immagine, cioè la luce, il colore, la vibrazione e l'azione coerenti. Ed ora ciascuno coi propri tempi ritorni alla coscienza di veglia. Grazie. Ok? No? No? Quindi, che è fullesta o sinecimento. Grazie a tutti.